Siamo carichi, siamo carichi, abbiamo voglia di spaccare sicuramente. Ok, tu tra l'altro sei ligure quindi giochi in casa, quindi ti chiedo... Si dice così, ma... Si dice così, ma non è come nel calcio, non è che conta molto. Però ti chiedo se è più grande l'orgoglio di essere arrivato su questo palco oppure la paura? Parremo a testa il fatto che stiamo lavorando bene, ma è uno step, quindi sono sicuramente felice e orgoglioso di esserci. E la paura c'è sempre, prima di suonare sempre un po' di paura c'è, nel senso anche fossero dieci persone, un po' di paura ce l'abbiamo. Allo stesso tempo è tanta voglia di spaccare, quindi è più quella probabilmente. Ok, tu tra l'altro sei tra i più giovani in gara, no? Classe 2001. Io non so se tu lo sai che nel 2001 a Sanremo Giorgio ed Elisa si sfidavano proprio per la vittoria. Tuola ritrovi Giorgia in gara, ritrovi anche Elisa perché saranno i duetti. Ecco, cosa si prova a condividere un palco con artisti del genere? Eh, è figo, so che abbiamo ruoli molto diversi, nel senso che abbiamo proprio un ruolo diverso all'interno del festival. E sono però sicuramente, io sono fan tra l'altro molto di Giorgia e di Elisa pure, tra l'altro. Quindi io sarò fan del loro duetto ad esempio, sarò contentissimo di vederle cantare insieme durante la serie dei duetti. Però non ho, non c'è, cioè magari ecco nei loro confronti c'è un po' di ansia perché comunque sono, cioè, due voci incredibili. Ti parlo anche di Giorgia in particolare che è in gara con me, quindi dal punto di vista Canoro c'è proprio un distacco evidente, cioè non serve che lo dica nessuno, cioè me lo dico da solo. Però allo stesso tempo mi gasa l'idea di essere lì con loro, ecco. So che sto portando il mio mondo e... E questo è importante. A questo è quello che conta. Tra l'altro a proposito dei duetti voglio farti complimenti perché secondo me tu con la scelta del duetto hai proprio azzeccato in pieno il senso della serata. Cioè tu alla fine con Lorella Cuccarini, la notte vola, proprio ampli il tuo mondo e il tuo pubblico. E quindi questo è importante. Come è nata questa collaborazione con Lorella? Non c'è stata nessuna scelta per ampliare il pubblico. Ecco, è stata una scelta proprio musicale, nel senso che è un brano iconico della musica italiana, no? Mi racconta Lorella la storia del brano. Esatto, anche della tv, quindi io per quello ti dicevo, cambi il pubblico, perché proprio arrivi a tanti, forse a tutti, rispetto ad altre due. Certo, speriamo. Però la cosa interessante è che ho fatto, anche in questo caso, un'ogliata, come dice Giulia, che è il mio produttore. Nel senso che ho preso il brano e l'ho riscritto, tranne una parte iconica del brano, che poi, insomma, si vedrà durante l'esibizione. Però c'è stata tanta reinterpretazione di quello che era il concept del brano, del titolo del brano. E sono, tra l'altro, ultra felice del fatto che Lorella abbia accolto a braccia aperte la mia proposta e, anzi, mi abbia confermato parlandone, senza che nessuno glielo chiedesse, quanto abbia capito il mio viaggio, il mio mondo e quanto anche abbia apprezzato le scelte che ho fatto. Quindi sarà un'esibizione divertente, ma anche profonda, come quello che voglio che sia ogni mia esibizione. Cioè, c'è una sfumatura di pensiero grande dietro a quello che ho fatto. E non è fatto solo per arrivare al grande pubblico della televisione, ma c'è tutto un criterio dietro, che secondo me si noterà sul parco, ascoltando poi il brano. Invece Polvere è un pezzo che è nato, secondo te, per Sanremo, anche se magari l'avrai scritto prima. No, è nato da una sessione, tra l'altro, non mia. Nel senso che Mezzo Miliardo e Giulie, Mezzo Miliardo è un autore, Manuele Lovito, si erano beccati un pomeriggio per lavorare a un brano d'autore. E Mezzo Miliardo l'aveva proposto, in realtà, per me. Ed era un brano diverso dal solito, nel senso che io non avevo mai fatto un pezzo così adibibile a un'orchestra. Diciamo, c'è tanta orchestrazione, c'è tanto pop per quello che è realmente poi il pop, per come lo conosciamo in generale. Quindi, quando poi sono arrivato in studio, ho sentito quello che era una parte dell'inciso, che era su di me, così bella che è, con delle parole diverse, ci ho messo un po' di me. Quindi è diventato su di me solo polvere. Abbiamo aggiunto la parte precedente, strumentale, che è la parte poi identitaria di Olly. Mi spiace parlare in terza persona, è orrendo, però per farmi dire mia. E quindi poi le strofe, che tra l'altro avevo già scritto da solo in casa, mentre ero in mutande, mi stavo vestendo, ogni tanto mi succede di pensare delle frasi, delle quartine, piuttosto che ho provato a metterle lì, casualmente ci stavano molto bene, un po' di farina, un po' di acqua, è venuto a supportare. Ti aspettavi tutto questo? Pensi che sia arrivato tutto troppo velocemente? Bella domanda. Intanto, vabbè, il mio anno è esagerato. Credo sia più l'anno di Lazza, credo sia l'anno di Bresh, di questi tipo di artisti qua, che sono stati veramente gli anni delle loro conferme. È stato sicuramente un anno importante per il mio processo e la mia crescita, perché ho capito anche delle robe di come voglio scrivere, di come mi piace stare su determinati sound, eccetera, eccetera. È stato l'anno della mia identità, mettiamola così. Io voglio godermi le cose con calma e sono una persona che ha bisogno anche della calma. Tu mi dirai, allora sarremo cosa ci vai a fare, perché lì arriverà tutto insieme, probabilmente. Però credo anche che certe volte, quando la vita ti dà delle opportunità, è giusto coglierle e finché le si affrontano essendo se stessi, non ci dovrebbero essere troppi grandi problemi, ecco. Quindi da questo sarremo cosa ti aspetti o cosa ti auguri? Non mi voglio aspettare, bravo, non mi aspetto niente, ma mi auguro che sia sicuramente un'esperienza che mi faccia crescere, perché è questo che poi cerco, no? Avendo anche finito poi di studiare con l'università, non sto più studiando la mia palestra di vita, a tutti gli effetti, anche la musica, perché mi permette di conoscere tante persone, tante situazioni, e quindi di catalizzare la mia crescita come essere umano, proprio, no? E in secondo luogo mi auguro di essere compreso, se non subito, nel lungo termine, che venga proprio capita la matrice di quello che sto facendo, e sarà anche un impegno mio prenderla comprensibile, perché per certi versi mi rendo conto che stiamo andando a proporre, sto andando a proporre un sound, secondo me, diverso dai canoni, abituato al festival, e non lo dico con presunzione, ma con carica, nel senso che sono felice di farlo, e spero piaccia, e allo stesso tempo, niente, mi auguro che, finita la settimana di Sanremo, finisca anche tutto quello che c'è attorno per ritornare a parlare di musica e fare i miei concerti, che è quella la cosa che poi mi gallo. E recuperare serenità, penso. Beh, per forza, perché lo sai come funziona, cioè ti attaccano positivamente, nessuno dico che attacca negativo, però arrivano cose da tutti i lati, tutti i giorni, voglio anche arrivare a casa, abbracciare i miei cani. Quindi hai capito la differenza tra essere un cantante e essere un cantante di Sanremo, in queste settimane. Assolutamente. Dopo Sanremo cosa farai? Dopo Sanremo, allora, devo capire se ci sono questioni lavorative, importanti che immagino ci saranno altre cose da fare di lavoro, ma ho anche bisogno di tornarmene a Genova, a casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, prendermi un attimo di tempo per vivere della sana normalità. e poi si lavora subito per i concerti, perché ci saranno i live ad aprile, magazzini generali a Milano, doppia data a Roma, e poi io voglio far aggiungere ovviamente anche altre date, tra cui sicuramente a Genova, a casa mia, dove ho bisogno di suonare e sentirmi me stesso lì, fare il mio live lì. Perfetto, allora grazie, bocca al lupo. Grazie a te, viva il lupo. Ciao, Grazie mille.